Si chiama Genius Loci, l'anima dei luoghi. Un progetto realizzato da molte associazioni, che racchiude rappresentazioni teatrali, danza, concerti e spettacoli per bambini nell'ambito della rassegna Abruzzo dal Vivo. Il festival voluto e sostenuto dalla regione Abruzzo per rivitalizzare il tessuto sociale dei comuni abruzzesi del cratere. Un progetto di spessore che vedrà coinvolti soprattutto i territori dell'Aquilano dal 1 al 20 luglio, presentato dal consigliere regionale delegato alla cultura Luciano Monticelli, il direttore artistico Federico Fiorenza, Gabriele Ciaccia del Teatro dei Colori, Antonia Renzella, Rita Rossi e i sindaci dei comuni che ospiteranno gli spettacoli. I comuni interessati sono Barete, Pizzoli, Campotosto, Montore Alvomano, Montereale, Civitella Rovereto. Sono manifestazioni soprattutto quelle teatrali organizzate da Genius Loci, un'organizzazione di più associazioni e fanno soprattutto teatro. Vorrei ricordare che sono 23 i comuni colpiti dal sisma che toccano tre province, solo per Farindola, Pescara, molti i comuni del Terramano e poi l'Aquila. Credo che si tratti di un evento importantissimo di cui sta riscuotendo tantissimo successo. Se pensiamo che durante queste settimane anche le piccole comunità, perché questo è il lancio che il MIBACT e la Regione Abruzzo hanno voluto fare, portare i cittadini e i turisti nelle piccole legalità colpite dal sisma. Si parte, spiega con più precisione il consigliere regionale delegato alla cultura, Luciano Monticelli, domenica 1 luglio con il Teatro dei Colori a Barete, con la Dance Performance Migranti a Pizzoli. Da qui un evolversi di concerti, teatro, spettacoli musicali e danza, tutti realizzati all'interno di una scenografia unica, fatta da borghi, a volte sconosciuti, anche se di grande bellezza. La funzione era quella di una coesione sociale, di un'attenzione ai luoghi, visto che tra l'altro ci siamo interessati di più della provincia dell'Aquila, oltre a Civitella del Tronto e Montorio, siamo in paesi un po' più distrutti e disastrati. Ci siamo preoccupati, attraverso il nome Genius Loci, di dare memoria di questi luoghi, di questi paesi, alle persone, all'ambiente. Quindi abbiamo costruito il nostro progetto con un riferimento preciso ai paesi, ai borghi, alle persone, alle storie, alle memorie di queste cose, anche con i grossi artisti che ci sono e anche vincolando tutto il nostro progetto a una promozione dell'immagine di questi luoghi. Grazie. 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 Grazie.